Amici 22, Cricco sorprende Isobel Kinnear con romantico gesto, l'inaspettata reazione della ballerina. Sta per concludersi la 22esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, con otto allievi che ambiscono alla vittoria del serale. In attesa della sesta puntata, che andrà in onda questa sera su Canale 5, nel pomeriggio di ieri. Venerdì 21 aprile, la rete ha trasmesso uno speciale del talent. In sostituzione al consueto appuntamento con uomini e donne. Il pubblico di Canale 5 ha assistito a contenuti inediti di Amici. Nel corso dello speciale, Giovanni Cricca, allievo di Lorella Cuccarini, si è esibito in Just the Will You Are. Di Bruno Mars. Una volta diffuso il filmato dell'esibizione, gli utenti del web hanno ipotizzato che il cantante, emozionato, avrebbe dedicato il brano alla ballerina australiana Isobel Kinnea, quest'ultima, in un primo momento è rimasta seduta di fronte al cantante e poi, visibilmente imbarazzata, ha raggiunto gli altri compagni intenti a ballare. Del resto, era noto che tra i due fosse nata una simpatia poco tempo e l'entro di Cricca nella casetta di Amici. Sostituendo la TikToker Valeria Mancini a seguito del Capodanno Gate. Durante un day time. Mentre si discuteva del comportamento di Pacchi Brunetti nei confronti di Maddalena Svevi. I telespettatori avevano intercettato un bacio tra Cricca e Isobel. Da lì, i fan del programma ebbero la conferma che la simpatia nata tra i due allievi fosse sfociata in qualcosa di più. Eppure, a differenza delle altre love stories, a loro non fu dedicato alcuno spazio nei day time. Per questo motivo, quando i due sono apparsi, settimane dopo, piuttosto distanti. Il pubblico ha sospettato che il flirt non fosse proseguito. Il video di Just The Way You Are, quindi, è andato ad avvalorare l'ipotesi degli internauti. Secondo loro, sarebbe stata proprio Isobel a troncare il flirt. Mentre Cricca sembrerebbe ancora fortemente interessato alla ballerina. Clicca qui per guardare l'esibizione di Cricca.